Vivere intensamente la Settimana Santa è l'augurio rivolto a tutti i fedeli dal Vescovo di Pistoia e Pesce a Monsignor Fausto Tardelli, espresso alla vigilia della Domenica delle Palme, momento che apre i riti della settimana che porta alla celebrazione della Pasqua. Nella chiesa di Sant'Ignazza a Pistoia, come da tradizione, il Vescovo ha preseduto la celebrazione della benedizione dell'olivo e la commemorazione dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme. In tanti hanno partecipato al momento attraversando in precessione il Centro Storico di Pistoia per arrivare fino alla Cattedrale di San Zeno, dove è stata celebrata la Santa Messa. L'augurio che faccio è di vivere possibilmente come può la gente, ovviamente, perché è una settimana lavorativa, però viverla almeno interiormente o attraverso i mezzi di comunicazione, vivere tutti i momenti che questa settimana offre, perché sono momenti di riflessione, sono momenti che ci fanno capire le difficoltà della vita e il dolore che c'è nel mondo, ma che ci danno anche una luce di speranza, appunto perché questa settimana è la settimana del dolore che ha sofferto il nostro Signore, ma che poi egli ha vinto con l'amore risorgendo il terzo giorno. Quindi il mio augurio è di vivere come si può questa settimana, riflettendo, pensando e soprattutto facendo rinascere dentro il proprio cuore la speranza, al di là di tutte le difficoltà che viviamo, sia personalmente che socialmente.